Una precisazione perché quando si parla di nulla è giusto essere precisi, il finanziamento della città metropolitana è un finanziamento di 48 mila euro e quando facciamo impegni di spesa se noi abbiamo dovuto spendere 65-70 non possono bastare 48 mila per fare tutti gli impegni di spesa, è lì che ci sta l'azione forte politica e l'impegno di recuperare il mancante che c'era e come si sono stati fatti gli impegni di tutti quanti, non solo per il contributo della città metropolitana. Grazie.